Oggi sono successe due cose. In primo luogo che il bilancio di previsione 2018 della città di Giulianova è stato approvato e questo bilancio contiene tutte le ulteriori risposte di questo quinquennio. Dopo che tante altre sono state già soddisfatte, altre in itinere come la caserma dei Carabinieri che a breve prenderà l'avvio, i cui lavori prenderanno l'avvio, via Nazareosauro che si sta realizzando, la scuola di Colleranesco che ha preso l'avvio, ci sono le risposte per 500 mila euro per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 4 milioni di euro per completare la messa in sicurezza del miramento sismico delle scuole in città, in complesso 10 milioni di euro di opere pubbliche, fra le quali tante ma piano asfalti per mettere in sicurezza tutte le strade ammalorate, collettore di via Parma 490 mila euro per risolvere il problema degli allagamenti di viale Orsini Nord, nessun aumento di tassazione locale, nessun taglio di servizi e questo nonostante l'atteggiamento irresponsabile del Partito Democratico che ha dato il diktat ai propri assessori di non approvare questo bilancio. L'assessore canzanese ha detto in giunta che lei è d'accordo con il bilancio, che lo ritiene positivo, si è dimessa dal Partito Democratico e si è astenuta per senso di responsabilità nei confronti di chi l'aveva indicata. Io la ringrazio di questo, ma l'atteggiamento del Partito Democratico è grave.